Dopo il faccio a faccia con i sindaci di Olbia, Sassari, Nuoro, Tortorie, Oristano e Cagliari, che ha portato la Presidente Todd e gli Assessori dell'Urbanistica, dell'Ambiente e dell'Industria ad un confronto serrato sull'indicazione delle aree idonee per le rinnovabili, è atteso entro il 20 settembre il pronunciamento della consulta. I membri della Corte Costituzionale sono stati chiamati dal Governo ad esprimere parere di legittimità sulla moratoria di 180 giorni deliberata dalla Giunta in maggio e trasformate in legge con un solo voto contrario dal Consiglio regionale in luglio. Se i giudici bocceranno l'iniziativa dell'Assemblea consigliere Sarda sarà davvero un grande problema, perché le imprese che hanno dovuto fermare diversi cantieri allestiti nel territorio isolano si sentiranno immediatamente autorizzati a procedere nell'installazione di impianti eolici onshore e offshore, e dei parchi fotovoltaici. E a proposito di impianti sulle coste è sembrato preciso e puntuale l'intervento nel fine settimana dell'assessore regionale dell'urbanistica Francesco Spanedda, che ha sottolineato che quello del mare è un punto sul quale vanno a convergere le posizioni dei comitati e quelle della Giunta. Soprattutto considerato che l'aria costiera e regionale è tanto vasta che non si possono avere effetti sull'idoneità dello strumento per raggiungere gli obiettivi e la relativa regolamentazione delle autorizzazioni delle rinnovabili eoliche classificate come offshore. A questo punto, ha sottolineato Spanedda, affiancato dalla collega dell'ambiente Rosanna Laconi, chiediamo con forza che vengano previste nel piano l'inserimento del limite minimo di 25 miglia della costa e comunque della non visibilità dalla stessa e dei percorsi panoramici, il divieto di installazione e passaggio di cavi in aree soggette a tutela ambientale, la previsione di studi degli impatti cumulativi in tutti i piani di gestione e un limite massimo di potenza installabile corrispondente agli obiettivi fissati dal piano integrato per l'energia e il clima 2030 per la produzione nazionale e adesso non ci resta che incrociare le dita in vista del 20 settembre. Se salta il banco è tutto perduto.